John Borno ragazzi benvenuti in questo nuovo video Allora dalla macchina la gente è un video un po' outdoor No un video un po' Ragazzi un po' extreme A parte le cazzate Ragazzi che succede? Allora secondo me niente sostanzialmente Però visto che l'ha riportata Sport Mediaset Secondo me è una notizia Della quale bisognerebbe parlare E la quale bisognerebbe prendere in considerazione Di che sto a parlare? Pare, pare che il Newcastle Come dice Sport Mediaset Riportalo tra l'altro da la bolla Non lo so No da un altro genere spagnolo Una fracca de cazzate I giorni spagnoli si divertono a chi la dice più grossa Dice sostanzialmente che il Newcastle Che sta iniziando questa presidenza con lo sceicco Prima si era parlato di Griezmann E sembrava si esagerasse Poi addirittura si parla della peggio merda Adesso si rialza all'improvviso E si parla di Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo dovrebbe essere il primo colpo Del Newcastle dello sceicco Ovviamente a noi ci tocca Da noi italiani Perché giocano il campionato italiano Tra l'altro ieri ho letto un articolo Che diceva che l'incremento 2019-2020 Vede uno dei nomi più gettonati in Italia Per i bambini in Cristiano Veramente assurdo come cambi il mondo Tra l'altro anche Leo ci sta Giusto per la par condicio Però al di là di questo C'è trancazzo Che vi stavo a dire Vi stavo dicendo che Ronaldo Allora secondo Sto giornale spagnolo I soliti giornali spagnoli Pare che debba trasferirsi C'è già l'accordo L'accordo multimilionario L'accordo che prevederà L'approdo di Cristiano Ronaldo al Newcastle Che l'anno prossimo sarà Un giocatore del Newcastle Il titolarissimo del Newcastle Addirittura si parla di un contratto Biennale Quindi due anni Però se Ronaldo vuole Un anno prima Rescindere il contratto Quindi fare un anno E poi andarsene in America Così c'è scritto O in Cina Così c'è scritto Quindi prendere soldi Se ne può andare Tranquillamente Mi risulta difficile da credere Mi risulta difficile Perché credo che Ronaldo Difficilmente lascerà la Juventus Per andare a giocare In una squadra che non fa la Champions Che non fa l'Europa League Sia un progetto da zero Ma un progetto da zero Io lo capisco magari Se ad andarci È Ousmane Dembélé C'è un giocatore di quelli Giovanissimi Che magari tra cinque anni Ancora ha l'ustro Della sua carriera Tra cinque anni Il Newcastle Parte tra le favorite O comunque tra le papabili Per vincere la Champions Se però invece si parla Di Cristiano Ronaldo Uno che potrebbe fare un anno Al Newcastle Ma che gliene frega A Ronaldo di andare al Newcastle Cioè se dovesse Proprio tornare in Premier Ma aspetto Quanto meno che vada Al Manchester United Per dirne una Anche perché Vedete sì sì Ma lo United sta a pezzi Beh il Newcastle Inizia a pezzi Perché c'è un progetto dietro Però uno anche lo United Dà pieno dei sordi Esattamente come il Newcastle Se non dè più Visto che spende Fior di quadrini ogni anno Però spende da merda Perché se tu spendi Soldi da merda È normale che poi Le cose non le vinci Però il progetto Cioè la possibilità economica È quella Se il Newcastle L'anno prossimo Newcastle l'anno prossimo Spende 100 milioni Per prendere un DR Allora dico Sei un coglione Però i sordi ce li hai Come ce l'ha Lo United Quindi se potevo pensare Penso che Ronaldo Se dovesse lasciare La Juventus Per andare in Premier Potrebbe andare Allo United Sinceramente Secondo me A mio modestissimo Parere non andrà Al Newcastle Anche se dovessero Offrirgli un contratto Veramente gigantesco Anche se dovesse Prendere due volte Quello che prende la Juventus Tipo prende 30 Dovrebbe Anche se gli offrissero 50 Diciamo Secondo me Difficilmente lascerà La Juventus Per andare al Newcastle O Va a fare un'avventura strana Tipo che ne so Dici Vado Vado in In Bundes Non ci sono mai andato Vado al Borussia E provo a vincere il campionato Da lì Quindi Un mini miracolo Ma comunque Ho i miei grandi dubbi Che lo faccia Oppure Magari torna allo Sporting Allo Sporting Potrebbe anche tornarci Oppure torna al Manchester United Ma pensare sinceramente Che lasci la Juventus Per sposare un progetto Che magari inizierebbe Perché poi tu inizi il progetto Però poi finisce lì Io la vedo veramente dura Cioè tipo Quest'anno Ibra Secondo me Non avrebbe mai accettato Un ipotetico Newcastle È andato al Milan Perché? Ma il Milan Ma non avrebbe anche accettato mai Un Milan Se Il Milan Che doveva partire da zero Perché il Milan Quest'anno doveva ripartire da zero Ibra non l'avrebbe accettato Perché comunque È un giocatore vecchio Quanto ti fa? Ronaldo quanto ti fa Il Newcastle? Un anno? Due anni? Dopo? Cosa fai in due anni Con Newcastle? Arrivi in Champions? Bene Che hai concluso? Secondo me no Secondo me no Per quanto poi Solite riviste spagnole Possano parlare Secondo me no Detto questo Vi invito a lasciare tantissime Qui sotto Vi invito a iscrivervi al canale Perché chi non si iscriveva al canale Non arriva a Natale Quindi secondo me È opportuno che ve lo facciate Vi ringrazio per aver visto il suo video Vi invito a lasciare tantissime Qui sotto Buonasera Allende come sempre Ci vediamo al prossimo video